In attesa del sindaco iniziamo questa conferenza stampa. Innanzitutto vi ringrazio perché il tema di oggi sono i 100 anni dell'azione, il settimanale della nostra diocesi. Il giornale è nato nel 1911 quindi abbiamo superato i 100 anni ma l'anno scorso abbiamo voluto evitare la concomitanza del congresso eucaristico che ha coinvolto anche la nostra regione e anche la nostra città per cui abbiamo spostato, abbiamo fatto slittare questo evento a quest'anno. La data sarà dal 3 al 5 maggio, le cose tecniche, gli ospiti e le personalità ne parlerò dopo. Adesso do la parola al Vescovo della diocesi Giancarlo Vecerica per un saluto. Io sono contento di essere qui al comune per salutare i giornalisti e salutare gli assessori presenti. In modo particolare sono contento di annunciare a tutti che i 100 anni dell'azione del nostro settimanale diocesano sono un'occasione di festa, abbiamo tanti problemi, tante difficoltà, tante situazioni tristi e dentro questa realtà sociale così piena di contraddizioni c'è un annuncio, un annuncio gioioso che un giornale per 100 anni ha seguito il popolo. La caratteristica dell'azione è proprio questa, di essere stato uno strumento che ha dato voce al popolo e vorrei che fosse per il futuro sempre la voce del popolo, del popolo di questo territorio, di questa diocesi. Allora grazie al direttore che ha organizzato questa celebrazione, grazie a tutti coloro che collaboreranno. Bene, adesso vorrei dare la parola all'amministrazione comunale, non senza aver ricordato che le marche si concepiscono al plurale. Io invece desidero che emerga da questo convegno è che ci sia un'unità e questa unità l'ho vista nella sede di preparazione e anche nel lavoro che stiamo mettendo a punto con le istituzioni, la regione in primis, la provincia, l'amministrazione comunale, anche gli sponsor che poi vedrete. Magari non hanno dato tanto, sembrano tanti perché le spese sono tantissime, ma quel poco l'hanno dato con il cuore perché considero l'azione una parte integrante del nostro territorio. Parlando di unità, io so che a voi giornalisti, dico anche a noi giornalisti, ci piace questo tipo di curiosità. Magari non emergeranno dalla conferenza stampa, però anche dal punto di vista della ristorazione abbiamo cercato di mettere insieme tutti i ristoranti della città. Addirittura ci sarà una cena di gala, posso dare un'anticipazione, tra i primi ci sono i vincisgrassi alla vecerrica, per dire ci sono dei piatti tipici creati apposta guardando al territorio, in occasione del centenario. Scusate la battuta perché so che a voi fa presa queste cose qui, le altre lascio per il 3 maggio, se no ce le giochiamo subito. Tutte ci sono delle particolarità che sono legate specificamente per questo centenario e la gente ha collaborato con questo spirito qui. Sonia Ruggeri. Ma noi accogliamo con gioia questo evento poco fa Don Giancarlo, che ringraziamo, è arrivato il sindaco, quindi diamo prima la parola al sindaco. Ringraziamo Don Giancarlo per essere qui con noi, Carlo in qualità di direttore di questo settimanale. Dicevo che accogliamo come amministrazione con gioia questo evento di festa, come diceva Don Giancarlo, di riflessione per la città, per il territorio e anche per un territorio più ampio, perché la celebrazione avverrà ospitando un convegno nazionale delle testate dei settimanali diocesani cattolici d'Italia. Ma la riflessione che io mi sento di fare, soprattutto come assessore alla cultura e anche all'istruzione, è questa. L'azione costituisce per noi fabrianesi, e non solo, uno dei settimanali diocesani più antico, interessante, e fortemente voluto dalla comunità fabrianese, direi non solo fabrianese, di questo ambito, che comprende oltre al comune di Fabriano, comune di Sassoferrato, Cerreto, Matelica, arriviamo fino a Matelica, Genga. Perché è importante? Secondo me per due motivi. Innanzitutto la rivisitazione di questi cento anni è una rivisitazione di uno spaccato della nostra realtà, uno spaccato storico, uno spaccato che pone risalto il tratto identitario della nostra realtà, della nostra città. Un tratto identitario, questo lo voglio dire, che in realtà ha radici importanti, radici cristiane importanti, che trovano la loro espressione in quelle spiritualità che poi lo hanno concretizzato attraverso monumenti, attraverso la costituzione anche di comunità monastiche, che sono la spiritualità francescana, la spiritualità benedettina, la spiritualità silvestrina e romaldina, che ci ha arricchito tantissimo. E l'azione questo lo ha sempre posto in risalto. Quindi questo tratto identitario che oggi noi, di cui dobbiamo fare memoria, proiettandoci verso il futuro. Poi un'altra cosa importante che mi sento di dire è come l'azione sia stata nel nostro territorio, ma non solo, punto di riferimento, svolgendo un ruolo importante dal punto di vista culturale, sociale ed educativo, sia stato un punto fondamentale nel mondo della comunicazione. I settimanali cattolici hanno un ruolo importantissimo, forse ancora più importante degli altri sotto questo punto di vista che adesso dirò, anche se in un dialogo con tutti i settimanali e con tutti gli organi di comunicazione che accomunano laici, cristiani, credenti e non credenti. Ed è quello di comunicare attraverso strumenti ben precisi la verità sull'uomo. Verità sull'uomo significa poi rispetto e dignità. Quindi di questo noi dobbiamo dire grazie e dobbiamo dire proiettiamoci verso il futuro ricordandoci questo, che la comunicazione è un compito importante. che dobbiamo tenere presente. La cosa fondamentale che, poi l'ultima cosa che voglio dire, che voglio porre in evidenza e che io ritengo fondamentale dal punto di vista della ricaduta culturale che ci sarà, Carlo prima parlava anche di quella turistica, ne parlerà Giovanni, culturale è che si affronterà con quell'ottica che appunto poco fa dicevo, ma anche con quello stile che è quello di entrare in dialogo con tutti gli organi di comunicazione di ogni tipo e di ogni provenienza, è quello di affrontare una tematica che è un'emergenza culturale, che è quella appunto della famiglia. La famiglia non in astratto ma concretamente nei luoghi della scuola, del lavoro, del territorio. Dico grazie a Carlo e al Vescovo perché hanno voluto coinvolgere in questa avventura interessante ed importante per la città, in un momento particolare, le scuole e quindi i giovani. Io dico i giovani se so coinvolti esplodono, quindi è un modo per elevarli e per poter essere voce in una dimensione più ampia di quella del territorio. Quindi grazie. Grazie Sonia. Adesso un saluto del Sitaco. Io voglio ringraziare Don Giancarlo e Carlo perché in fin dei conti, lo dico con una battuta, finisco i miei dieci anni di mandato con un altro centenario. Siccome i centenari della mia città li ho sempre salutati con grande felicità, quindi anche questa volta oltretutto porta bene perché chi saluta i centenari vuol dire che se augura di andare ancora vatti, scherzi a parte. Credo che fare una riflessione sui cento anni dell'azione vuol dire fare una riflessione sulla storia della nostra città e quindi documenta quello che è stato il processo di crescita e anche le parti felici e non felici di questa città attraverso le testimonianze reali, scritte. e noi siamo stati abituati sempre a tramandarci le cose oralmente e quando si trasferiscono le storie oralmente a volte non c'è più la verità reale ma una verità che viene raccontata. La scrittura ha rappresentato sempre invece una forma di testimonianza reale e l'azione documenta cento anni della vita di questa città nei momenti di gioia, nei momenti di difficoltà come quello di adesso oppure durante il terremoto e così via. È un grande patrimonio di questo territorio che è differente anche dalla diocesi perché la nostra diocesi è fabriana e materica l'azione è sempre nella ipotesi magari di diventare la diocesi più allargata questo è dato ormai è una cosa e l'altro fatto importante è che l'azione nella sua essenza è stato anche il legame profondo tra tanti nostri emigrati fuori in giro per l'Italia o all'estero per mantenere il collegamento con il nostro territorio per sapere ancora che cosa succede a casa loro nella loro vecchia casa quella che hanno comunque nel cuore anche se sono dovuti andare fuori e questo è un altro grande servizio che è stato reso alla nostra collettività è l'unico giornale che ancora parla di educazione e di famiglia e credo che questa è l'altra cosa importante a cui dobbiamo dare rispetto ma soprattutto essere contenti e felici di questa cosa perché la società come si sta evolvendo non è che apre grandi spiragli di tranquillità io non sono d'accordo con Sonia su una cosa i giovani fioriscono perché l'esplosione è già una cosa che non ci piace di questo allora i giovani fioriscono perché è con la primavera che il fiore sboccia e diventa bello quindi questa è l'altra grande cosa che in questi cento anni soprattutto con questi festeggiamenti il collegamento con la scuola e con tutte le altre cose danno un ulteriore significato a questo centenario concludo i miei dieci anni da sindaco con un altro centenario mi metto la fascia tricolore tra virgolette gli accarezzo la spalla come dico sempre hai tutti i centenari anche se te sei molto più giovane quindi però tutte e due l'abbiamo fatti i centenari e l'ultima centenaria che abbiamo fatto insieme ci ha detto Don Giancà nonostante la fatica nonostante toccava andare a piedi stavamo a Campodonico ti ricordi? ci ha detto forse il mondo del prima era molto meglio di adesso perché almeno c'erano i rapporti tra le persone lasciavamo la chiave sulla porta c'era solidarietà e c'era tutto credo che questo sia un grande messaggio per tutti quanti noi grazie Roberto e adesso ecco un saluto se vogliono io volevo anche ringraziare Giovanni Balducci e Angelo Costantini perché mi sono stati vicini in questa fase organizzativa uno dal punto di vista turistico perché poi magari ve lo dirò velocemente il venerdì pomeriggio è dedicato proprio al turismo la scelta dei convegnisti tra le grotte fra Sassi e il museo della carta e della filigrana e il museo della stampa qualcuno dice tutti andranno alle grotte fra Sassi no non è vero ci sono molte persone che stanno invece preferendo il museo della carta e della stampa sorprendentemente sorprendentemente uno dice il fiore all'occhiello quindi ci tengono ve lo posso dire questa mattina sono arrivate due iscrizioni da Avellino una da Lentini nella Sicilia due da Torino ecco tutta l'Italia è rappresentata è gente che non ha mai visto il nostro territorio sono direttori che stanno sempre a lavorare sul loro posto di lavoro quindi ci tengono molto a vedere la nostra zona quindi ecco il ringraziamento era entrambi perché anche Angelo è stato gentilissimo sul fronte dei trasporti perché dobbiamo tenere conto che siamo alloggiati in vari alberghi bisogna pensare anche al trasporto da un punto a un altro e li devo ringraziare pubblicamente quindi ecco se voglio fare un saluto al volo poi vi do le ultime io intanto ringrazio Giancarlo solo uno spunto rispetto al giornale a me piace riconoscere una cosa all'azione che ha sempre dato spazio a tutte le soggettività di questa città e secondo me questo è una buonissima cosa nel senso che ha messo a confronto anche sui problemi tutti i diversi punti di vista mettendo al centro l'uomo la famiglia però parlando di tutto senza dogmi e questo è importantissimo l'altra cosa e chiudo è che nel ringraziamento il ringraziamento lo fa anche il consorcio di Fabriano del Salami Fabriano perché noi e il consorcio rappresentato da me presidente ma da tutti gli agricoltori che sono qui del nostro territorio regaleremo a tutti coloro che arriveranno da fuori diciamo un po' il simbolo della città che è il Salami Fabriano e tutti gli agricoltori sono ben felici di onorare con questo pensiero tutti coloro che arriveranno è importante secondo noi anche se è uno sforzo però insieme alla carta che è come dire la storia di questa città anche il Salami Fabriano sarà tra ciò che noi daremo come immagine forte quindi io curerò i trasporti per quello che Carlo ci dirà eccetera quindi seguiremo tutto il percorso di questi tre giorni con tranquillità sperando che tutto vada bene e che siccome arriva tanta gente da tutta Italia e questa è l'altra cosa mi auguro e penso che ci auguriamo tutti di dare la migliore immagine della nostra città e del nostro territorio ma io solamente due cose la prima è un ricordo nel senso che vari anni fa nelle case non c'erano tutti i giornali che ci stanno adesso e la cosa che io ricordo a casa di mio nonno è l'azione per cui significa che anche in tempi in cui l'informazione non aveva tutte queste potenzialità mediatiche c'era un qualcosa di scritto che arrivava a tutti e oltre all'informazione io direi la formazione l'azione è stata importante per la formazione e questo lo vedete voi stessi quanti giornalisti si sono formati attraverso le colonne di questo giornale tantissimi voi stessi vedo qui in mezzo per cui dico che tutto sommato è importante celebrare questo centenario anche per la formazione che è adatto alle penne del nostro territorio l'ultima cosa dal punto di vista turistico e così vediamo il settore del mio assessorato è il più grosso educational tour che sia stato mai organizzato in cinque anni noi a volte organizziamo gli educational tour per portare i giornalisti e promuovere le nostre realtà e le nostre bellezze di colpo ne abbiamo più di 200 mi fa piacere che scelgano il museo della carta e il museo della stampa tutto sommato sarebbe più attinente che le grotte alla professione che uno svolge però io dico che dal punto di vista turistico sicuramente il riflesso promozionale che avrà questo evento è di indubbia e grande portata ringrazio perciò il direttore ringrazio il vescovo per questa opportunità che dà alla città di Fabiano e al territorio tutto sommato è una delle prime STL che siano state fatte coincidenti con il territorio della diocesi grazie anche a voi bene adesso chiudo dando un po' qualche notizia vi dicevo che è un convegno organizzato dalla FISH che è la federazione italiana a settimane cattolici insieme al SIR che è il servizio informazione religiosa che opera a Roma e come io Presidente della Commissione Cultura a livello nazionale della FISH organizzo annualmente dei convegni quest'anno hanno scelto Fabiano proprio per il centenario il tema è la vera emergenza educativa la famiglia declinata nei tre aspetti del lavoro nella scuola e nello sport si inizierà il tre pomeriggio con un pomeriggio di gala al Teatro Gentile modellerà Paolo Notari ci sono vari interventi tra cui il Presidente Nazionale della FISH Francesco Zanotti farà più o meno l'introduzione e ci sarà la produzione che la farà il Vescovo di Parma Monsignore Enrico Solmi che è Presidente della Commissione Episcopale Permanente troverete poi qui nell'invito per la famiglia e la vita della CEI poi chiuderemo con un video sui cent'anni dell'azione che ha preparato Achille Corrieri è una cosa un po' top secret non abbiamo visto così nessuno e Sonia parlava dei giovani ha ribadito anche il sindaco ci sarà poi la premiazione di un concorso giornalistico che hanno curato insomma uno staff di ragazzi e ragazze del giornale con una giuria qualificata con tre sezioni quella appunto giornalistica quella video e quella grafica stanno arrivando numerose adesioni la settimana prossima la giuria si riunirà e anche qui c'è un premio un premio di mille euro o per il singolo per la scuola per ogni sezione che rappresenta sempre uno stimolo e anche un incentivo per i ragazzi tutto questo lavoro sul tema della famiglia verrà poi molto probabilmente pubblicato e consegnato alla CEI quindi al Papa visto che il mese dopo c'è l'incontro mondiale della famiglia e tutte le famiglie a Roma quindi questo già la CEI lo sa che noi prepareremo questo lavoro e diremo ecco come i giovani della diocesi ecco quello che pensano della famiglia quindi Milano scusate a Milano grazie quindi il 3 chiuderemo poi con una cena di gala all'Oianos il giorno dopo inizieranno i lavori veri e propri ci sarà una messa nella cattedrale di Fabriano con Monsignor Claudio Giulio Dori che è il vescovo di Macerata e poi la tavola rotonda sarà proprio sul tema la vera emergenza educativa modererà Paolo Bustaffa che è direttore del SIR interverrà appunto Giulio Dori Davide Rondoni che conoscete tutti che è un docente uno scrittore sul tema della scuola Francesco Belletti che interverrà anche a Milano è il presidente nazionale del forum delle famiglie poi ci aiuterà proprio a affrontare questo tema qui e Enrico Bellardinelli che è un docente sul tema del lavoro un bene insostituibile per la persona il pranzo un catering veloce lo faremo lì all'oratorio della carità e al ridotto e nel pomeriggio ci saranno le visie turistiche Grotte di Frasassi e Museo della Carta adesso non vorrei aver fatto una gaffa perché anche le grotte sono state molto molto sensibili in questo domani escono i giornali tutti scelgono Fabriano allora Marco Filipponi lo conosco ecco esattamente lavoriamo ecco in sinergia la gente ha scelto anche le grotte se c'è stata questa opzione in più è perché chiaramente il Museo della Carta rappresenta un po' il testo il testo proprio distintivo insomma della città le grotte sono molto più conosciute quindi rappresenta in questo ma più o meno ecco le adizioni sono quelle cena veloce sempre l'oratorio della carità in catri e poi il dopo cena questa è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto insieme alla regione Marche ci tengo proprio a precisarlo il concerto in esclusiva di Giovanni Allevi Giovanni Allevi ha accettato dopo grande grande pressing sarà un concerto un po' particolare perché sarà una cosa anche a modi di intervista a modi colloquio con il pubblico quindi intervallerà Canzoni con i suoi interventi lo intervisterò io e si è prestato insomma veramente con compassione a questo tipo di lavoro particolare e lui sarà presente non sarà il biglietto non costerà quindi è gratis però le offerte saranno devolute proprio per espresso e siderio di diosesi in favore della Caritas proprio ad aiutare le persone più disagiate questo mi sembra il minimo comunque chiaramente Allevi non vuole assolutamente che sia a pagamento non è a pagamento però questa è un'iniziativa ripeto è un convegno della Fisce quindi i convegnisti della Fisce sono primi a essere invitati e poi chiaramente ci sarà la città che potrà partecipare nei giorni successivi spiegheremo la modalità come scriversi e come poter partecipare al concerto il giorno dopo la diocesi Fabriano Matelica ci trasferiremo a Matelica nella concattedrale presiderà la messa Edoardo Menichelli che è l'arcivesco della diocesi di Ancora e i lavori si sposteranno più sul tema dell'osport il primo giorno era la famiglia e la scuola quindi modererà Francesca Cipolloni che è la segretaria nazionale della Fisce e ci sarà Luca Pancalli che è il vicepresidente del CONI conoscete tutti Marco D'Arquinio è il direttore di Avvenire poi viene Massimo Achini che è il presidente nazionale del CSI il centro sportivo italiano e poi c'è Lorenzo Minotti che è un dirigente sportivo è l'ex calciatore della nazionale italiana partecipato nel 94 l'ex giocatore del Parma per cui anche lui ci aiuterà a capire come si vive in famiglia lo sport e a maniera agonistica come l'ha vissuto lui l'intervento finale lo farà il vice direttore dell'ufficio nazionale delle comunicazioni sociali della CEI Donivan Maffeis e poi chiuderemo con il pranzo a Palazzo Ottoni a Materica che cosa dire le testate sono 190 in tutta Italia sono rappresentate tutte quante le regioni mi colpiva veramente il direttore di Firenze che ci teneva Firenze sappiamo che è un po' la cultura e la culla appunto della cultura tante bellezze che c'ha ci tiene a vedere per vedere le chiese fabrianesi che sanno che sono bellissime e non le ha viste quindi ecco di flash c'erano tantissimi a parte le marche che sono tutte rappresentate con i 10 settimanali le più rappresentate sono la Lombardia il Triveneto la Sardegna sono iscritti da Cagliari da Iglesias e la Sicilia anche da Siracusa oltre Catania ieri anche due di Cosenza insomma le regioni sono tutte rappresentate la Campania l'avevo detto la Basilicata e anche la Liguria e la Val d'Aosta che c'ha una testata sola la Val d'Aosta quindi questi siamo onorati che vengono tutti il momento è difficile però le marche si sono 4 d'estate a pernottare le altre 6 fanno i pendolari però ecco sono presenti chiaramente perché i costi sono i costi per cui vabbè capisco che non è facile la ristorazione ecco dicevo prima abbiamo coinvolti tutti quanti i ristoranti la questione turistica ecco se non ci sono altre domande io poi dopo qui c'ho sì no 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 a lui devo dire una cosa perfetto sapete che il giorno dopo ci sono le elezioni lo sapevamo questo su questo non ci preoccupo affatto perché sappiamo che l'invito è aperto a tutti quanti è bellissimo perché è un momento lo dico perché perché molti mi hanno detto ma come hai fatto a scegliere scelto una data che era già stata scelta stava già nel programma nazionale prima e la affrontiamo con molta serenità perché il giornale è dentro la città è dentro la realtà del territorio e quindi ci interessano anche il discorso delle elezioni però ecco quello che tengo a precisare è che la regione la provincia e il comune sono in prima linea gli altri sponsor dalla Cassa Risparmio alla Fondazione all'Ariston Termo alla Cattolica alle Cartiere Emiliani all'Elica tutti sono presenti i marchi principali il Salami Fabriano come giustamente diceva Angio diamo dei pensieri ai convegnisti tra cui c'è anche il Salami Fabriano addirittura ci arriva da un comune fuori zona non ho potuto rifiutare il calcione di Treia il comune di Treia vuole partecipare perché proprio per questo spirio di unità dice non è solo un gesto di Fabriano è di tutte le marche e noi siamo onorati di avere però ecco chiaramente volevamo che fiore all'occhiello gastronomico di Fabriano ci sia ci sarà anche un vino e poi altre oltre a una filigrana che appunto ci ha messo a disposizione le cartiere Emiliani Fedrigoni chiude il sindaco se non ci sono domande stanno pronti grazie a tutti